Dal 13 febbraio Cava de Tirreni ha una nuova agenzia di viaggi, con turbante viaggi e turismo, in via Guerritore 24. Sono partiti i lavori di riqualificazione dell'area dell'ex velodromo. Dopo la prima gara andata deserta, da Palazzo di Città, nelle scorse settimane è stato ufficializzato il soggetto privato che si è aggiudicato la gara per l'affidamento della struttura di via Idolongo. Si tratta dell'associazione sportiva Atletico Cava, che ha avuto la meglio sul centro sportivo italiano Comitato di Cava de Tirreni. La società che si è aggiudicata all'appalto, infatti, ha presentato un'offerta con la quale prevede maggiori investimenti sull'area per una serie di interventi di miglioria rispetto ai lavori obbligatori di manutenzione e ripristino delle condizioni minime d'uso. Soddisfazione è stata espressa dal consigliere comunale delegato allo sport Eugenio Canora, che ha seguito passo passo tutto l'Idol. Sono partiti i lavori, sono contentissimo, sono stato lì l'altro giorno a vedere queste ruspe in azione, un'area nuova, si vede proprio che si respira l'area di rinnovamento. La procedura di gara prevedeva la realizzazione di un parco dello sport per tutti, dove l'allocuzione per tutti significa un parco dello sport aperto, quindi perfettamente accessibile, senza barriere architettoniche, con almeno tre campi polifunzionali, nei quali si potranno disputare gli svariati giochi, svariati sport, ma con anche l'obbligo di coinvolgere le persone, gli atleti con disabilità. Un altro obbligo che si è preso alla società che si è aggiudicata questa procedura in questo momento è anche quello di ospitare gratuitamente i ragazzi del liceo scientifico e favorire l'inclusione, laddove l'inclusione significa anche evitare la dispersione scolastica e l'inclusione degli anziani. I lavori sono sicuramente molto impegnativi, perché la società che si è aggiudicata provvisoriamente la gara ha proposto un progetto molto complesso di ridefinizione proprio totale dell'architettura dell'area, per cui innanzitutto la procedura burocratica non è perfettamente completata, perché dovranno ottenere delle autorizzazioni da parte degli enti sovraordinati, però fatte questi ultimi passaggi burocratici poi inizieranno i lavori veri e propri. Dobbiamo dire con grande soddisfazione dopo quattro anni di lavoro che riusciamo ad arrivare a questo risultato. Sarebbe stato ovviamente meglio riuscire a completare proprio i lavori durante il nostro mandato da amministratori, però già aver inserito questa novità nel complesso quadro delle infrastrutture sportive cavesi già è un passo in avanti importante. La città necessita di aree attrezzate che siano anche accessibili per tutti. Nei giorni scorsi il sindaco Vincenzo Servalli ha effettuato un sopralluogo nell'area dell'ex velodromo all'indomani dell'avvio dei lavori. Sì, abbiamo bisogno di avere ulteriori spazi per le giovani generazioni, ma non soltanto per lo sport, per la cultura. Quest'area dell'ex velodromo è da troppi anni oggetto di desideri inappagati, cioè non si era riuscito, non si è riuscita a valorizzarlo fino in fondo. Adesso siamo arrivati al momento giusto, è un progetto molto bello, molto importante e i lavori sono iniziati con la pulitura ovviamente di quest'area, di tutto il verde. Mi auguro che siano lavori che si portino avanti rapidamente.